Donato, tocca a te, scout. In bocca al lupo, amico. Cambio di guardia operativo. Qui, scout. Forze sul posto. Sto entrando. Soldati in posizione, mandati. Ingresso bloccato fino alle ore 6. Nessuna attività. Niente da riferire. Capitano. Sì, scout. Avrò bisogno d'aiuto per uscire. Che è successo? Hanno bloccato il sistema. Sono chiuso dentro. Non si riaprirà prima delle 6. Avvertici quando hai piazzato le cariche. Verremo a tirarti fuori. Spero che mantenga la promessa. Individuato un intruso nella sezione 17. Indagare e bloccare. Ok, capitano. Io avrei finito. Devo di avere compagnia. Ma sono in grado di caparla. Bloccare il intruso sezione 17. Reparti operativi in azione. Possibilità di cariche esplosive. Indagare immediatamente. Intruso da eliminare. Bloccare l'intruso sezione 17. Reparti operativi in azione. Possibilità di cariche esplosive. Indagare immediatamente. Intruso da eliminare. Benk, va sul lato sinistro. Oak, tu su quello destro. Dobbiamo far saltare quella porta. Abbiamo solo 30 secondi. Muovetevi. Capitano, apra quella porta. Restano soltanto 30 secondi. Entrete alla mia calcagna. Stai invecchiando, Oak? L'età non c'entra per niente. Sono solo stanco. Maledizione. Ma che diavolo state aspettando? Fermo dove sei, Scout. Allontanati dalla porta e conta fino a 5. Uno, due, tre, quattro, cinque. Dov'è, Scout? Vista! Questa sì che è una bella seccatura per Lord Red. Possiamo tornare a casa ora? Ho i piedi a pezzi. Se l'ho detto, stai diventando vecchio. Pilota! Sì, capitano. Missione compiuta. Torniamo a casa. Ok, vengo a prenderti. Progetto Sharon vicino al 50% di realizzazione. Base Prometeo operativa al 60%. Progetto Icano richiede prolungato accumulo di energia. Zona inferiore. Il problema continua a sussistere. La sottostazione di energia Z è stata gravemente danneggiata. Confermata l'identificazione dell'intruso. Capitan Power. Ancora lui. Ritardo previsto per completare il progetto ordine nuovo? Se non ci saranno altre interruzioni, tre, quattro mesi. Ancora una volta Power si mette tra me e il mio destino, tra me e il mio futuro. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Attivare indagine individuale Z System. Posso solo sperare che la soluzione del mio futuro si trovi nel passato di Power. Andate a dormire. Domani stabiliremo il nuovo obiettivo. A dormire? Dopo una giornata tranquilla come questa? A me sembra una buona idea invece. Meglio che si riposi anche lei, capitano. Sì, vi raggiungo fra un secondo. Giornata tranquilla. Ma perché devi sempre fare l'eroe? Abbiamo qualcosa di interessante. Da parte di Dredd no. Ma ogni tanto appare un segnale sul canale della Resistenza. Un messaggio personale. Cavaliere del re ad alfiere della regina 3, Athena. Chi? Athena Samuels. È successo qualcosa? Ha ricevuto un messaggio. Da quale pianeta? Qual è l'origine della trasmissione? Settore 19, in tempo San Francisco. Infatti, ci conosciamo là. Mentor. In linea, capitano. Da quale zona è stata inviata la trasmissione? Locazione chiamata una volta distretto NBX. Temo che ne sia rimasto assai poco. Era la base della resistenza della costa prima che Dredd lo eliminasse. Via gli altri che sono andato là. Resta in attesa di altre trasmissioni. Pilota. Era l'assistente di mio padre. Una ragazza preparata. Bellissima. Ogni venerdì ci vedevamo nella libreria del quartiere. Ridevamo. Giocavamo a scacchi. Parlavamo. Non sono mai riuscito a batterla a scacchi. Solo amici? Per un po'. Poi ci fu la guerra. Ci siamo persi di vista. Invece era entrata nella resistenza. Se Dredd ha bruciato tutta la costa occidentale, allora lei... Lei è viva. Nessun altro può inviare quel messaggio. Era una specie di gioco. Una cosa che solo noi due conosciamo. San Francisco. Non posso credere a tanta devastazione. Non ci sono più Dredd nella zona. Vogliamo indossare le corazze? No, risparmiamo l'energia. La zona è libera per ora. Forse più tardi, vedremo. Atterra dove puoi, pilota. D'accordo. Il segnale viene da quella direzione. Confermato. Meglio che resti a bordo, pilota. Avvertimi se ci sono Biodredda. Ok. Sia prudente. Sì. 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 Sia prudente. Sia prudente. No. Sia prudente. Sia prudente. Sia prudente. Power on Attenzione, livello di energia 33% del massimo Grazie a tutti Aggressivo È l'unico sistema per vincere È tutto da dimostrare Sempre la stessa mossa Sono contenta di rivederti Athena, cosa... Mi dispiace Johnny Ma è il modo migliore Attenzione, livello energia in zona pericolo 15% del massimo Tutti i sistemi stanno per entrare in allarme Rapporto dall'unità sottocutanea Impiantata nell'unità organica 658 Nome d'archivio Athena Samuels Ha compiuto un tentativo di eliminazione Sul bersaglio Capitan Power Gli ordini dicevano Power deve essere catturato vivo Ha avuto questo coraggio Ha avuto questo coraggio Del resto era una reazione che mi aspettava So, Aaron Eccomi, mio signore Localizza l'unità organica 658 Se la donna in questione dovesse opporsi Può essere eliminata Ma Power deve portarmelo vivo Ricevuto, mio signore Livello energia 10% in discesa Possibile disgregamento impianto Ricaricare immediatamente Davvero? Ma non mi dire Non sono più tanto facile da battere, Athena Non lo sei mai stato, Johnny Hoca, jump ship Hoca, jump ship Rispondete, jump ship Pilota, sono Hoca Mi senti? Rispondete, jump ship Hoca, chiama jump ship Mi sentite? Pilota, sono Hoca Hoca, chiama jump ship Rispondete Rispondete, jump ship Hoca, chiama jump ship Mi sentite? Qui, pilota Hoca, ero completamente stordita Ero sotto l'effetto di un gas Non so dove sia il capitano Rintraccialo Pilota, fa quello che puoi Stiamo arrivando Li sto avvicinando al settore 19, mio signore Trova l'unità organica ribelle Power sarà sicuramente con lei Avvicinamento settore 19 Mi dispiace, Johnny Ma non c'è altra soluzione Per nessuno dei due Perché, Athena? Voglio sapere perché Ero nella resistenza Quando sono arrivati loro Ci hanno annientato Quasi tutti Quelli più fortunati Era nella resistenza Mi ricordo di lei Allora deve sicuramente subire la volontà della macchina Disintegra E poi sei dentro Dentro la macchina Finché senti che ti tocca, Johnny Sono fili e in metallo Ma senti che ti tocca E ti conosce Conosce ogni segreto Le tue angosce I tuoi rancori I tuoi Amori Li conosce, Johnny E li usa Li sfrutta per torturarti Fin quando Dread mi ha usato per attirarti, Johnny E per catturarti C'è una sola via d'uscita La tua ridicola ribellione è finita, capitano Andiamo Johnny, no È meglio mille volte morire No No, è meglio vivere invece Anche se Dread vuol farci credere il contrario Johnny, non sai che cosa significa stare là dentro Dentro una macchina Io non ce la faccio È una tortura Non resisto Sono sola No, tu non sarai sola Io sarò sempre con te E ti libererò Lotteremo Lotteremo fianco a fianco Non dobbiamo sperare Dobbiamo sperare In nome di ciò che eravamo Ho trovato Power e la ragazza Aspetta ordine Stringimi, Johnny Stringimi forte Una patetica dimostrazione di stupidità organica Disintegrali e sottomettili ai miei ordini, Sauron Bene, sottomissione iniziata Una patetica dimostrazione di sabiko Grazie a tutti. 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 Ma per adesso? Cavaliere ad alfiere della regina Trey. Aggressivo? È l'unico sistema per vincere.